Fatemi sentire De Mita e poi so che c'è anche Alessio. De Mita? È abbastanza duro nei confronti di Renzi. Renzi è stato il primo a indicare Conte e io ho commesso l'ultimo errore di Piatano nei suoi confronti perché ho pensato ma finalmente ha capito che la politica è altro. E tutto poteva immaginare che l'ha mandato là per fare la guerriglia. Le sue opinioni sono di una stupidità insopportabile. Renzi non ha pensiero. Sì, ha un eloquio che appare brillante ma è senza senso. Loro sono personaggi singolari, credo non a caso si sono incontrati perché pensano di aiutarsi. Uno di qua, uno di là. I due Mattei, Renzi e Salvini. Nessuno dei due, come dire, si misura con la difficoltà che ci attraversa. Un ministro dell'interno che per un anno non va mai al ministero, è sempre in giro. E nella mia memoria c'è che il ministro dell'interno non esce quasi mai. Lui è il portavoce di una quantità di meccanismi di comunicazione. La comunicazione non è più pensiero ma è suono. Lui suona, mica parla. E il solo politico che è breve non parla a lungo, ma non dice le cose essenziali, emette suoni. Se qualcuno lo provocasse a discutere per un'ora, non ce la fa. Perché non ha pensiero. Corsa